Buon pomeriggio, bentrovati con Moversi in Toscana, in studio. Mauro Ciutini, piove su strade e autostrade della Toscana, si raccomando ovviamente la massima prudenza. Ci sono code sulla Pipi Litra, Montopoli-Valdarno e Ponte della Est sulla direzione Livorno. Personale su strada nella 11, tra Capannori e Alto Pascio in direzione Firenze. Lavori anche in A1 tra Calenzano, Sesto Fiorentino e Barberino di Mugello in direzione di Bologna. Sempre in A1 sulla panoramica, ricordo il tratto compreso tra l'allacciamento con l'A1 direttissima e Roncobilaccio verso Bologna, resta chiuso fino al 18 giugno per lavori. Infine lavori sulla regionale 70 della Consuma, una parte interdetta alla circolazione dei mezzi pesanti e istituita un senso unico alternato con semaforo lavori previsti. Fino al 16 giugno, Moversi in Toscana con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Grazie. Grazie.